Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 75esimo episodio della nostra serie con la Master League, con l'Inter su Dispro Evolution Tracer 2 signori Allora, bentornati qui, allora signori, prima di partire dal video, io vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto E vi ricordo sempre di iscrivervi al canale Signori, bene per riassunto, siamo da scorso video, cazzo lo dico, mi sono inceppato già da solo Nel scorso video, signori, abbiamo battuto il Dortmund, che è la prima in classifica E siamo riusciti a recuperare tre bei punticini su di lui, che in questo momento ci portano in classifica a un punto dal Dortmund e a due punti dalla Fiorentina Abbiamo messo in saccoccia ben 58 punticini, signori, che significano l'arrivo di Ronaldo Sì, state vedendo un discorso di aggiornamento del computer, però non vi preoccupate Ehm, Ronaldo, signori, è lui, è lui, l'obiettivo, il fenomeno Luis Nazaro de Lima Ronaldo, signori, ce la portiamo a casa a posto di Ehm, Juggins Direi di sì Un numero 9 per un numero 9, signori, senza problemi Ciao Juggins, grazie per aver fatto parte di questa rosa, non hai mai visto il campo Sicuramente, tornando da casa, vedrai altri campi da solcare, pascolare Signori, procediamo con l'incontro, abbiamo preso il fenomeno, io direi un minuto di applausi per questa scelta, per questo acquisto che ci svolterà la stagione Non lo so, signori, non lo so, però ci proveremo, ci proveremo, sicuramente, diciamo che è un gran bel acquisto, signori, un gran bel acquisto Bisogna imparare a giocarci, perché dobbiamo un attimino capire come impostare il fenomeno per renderlo al meglio Però, 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 non abbiamo paura di niente, signori, noi non abbiamo paura di niente, noi siamo l'Inter Ehm, manteniamo questo schema, signori, con l'arrico di Ronaldo vogliamo, vogliamo fare una prova? Facciamo una prova Facciamo una prova Torniamo al nostro schema Schema Ehm Schema Torniamo al nostro schema, signori Al nostro schema che ci ha regalato tante soddisfazioni con la Roma Tanto Babangita, oramai la facciamo sempre correre su quella fascia, quindi È inutile tenerla ancora lì Così, ok Castello Li mettiamo un pochino così? Ecco Direi che va bene, però abbassiamo un attimino la difesa, perché ho paura Passando a 3 là dietro A4 dietro, ho paura Vorlante in centrale, insieme a Valery No, 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 no No, no, dove cazzo l'ho messo? Lì Ok Utente Perfetto Cambiamo giocatori Vorlante in centrale, insieme a Valery Cortesemente, grazie Cellini, no Matt, lo mettiamo lì Sulla sinistra mettiamo il ritorno di Espimas 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 Babangita Miranda Ok Castello Bolatta Ci saluta per un certo Ronaldo Signori Attenzione Abbiamo cambiato schema Siamo tornati al vecchio schema Signori Siamo tornati allo schema che con la Roma ci ha dato tante soddisfazioni Passiamo da una difesa a 5 alla difesa a 4 Abbiamo il fenomeno in attacco Babangita l'abbiamo rimesso sulla fascia Visto che gli piace correre come se non ci fossero domani E infatti guarda, guarda Guarda come è ripartito subito Babangita Guarda come è ripartito subito Babangita Mannaggia a te No Cazzarola Oh, era una partita alla grande Subito Il Bamba Nella sua vecchia posizione Ha ritrovato subito E Le vecchie Vibe Cazzarola che è fuori Va bene, va bene Babangita Non la puoi rimettere tu sta palla Ok, Jorga Per Vorlanden 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 Per Matt 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 Cerca il Bamba Che riparte lui, signori Il Bamba riparte Cerca una palla per Ronaldo Barca miseria Era troppo 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 marcato Di chi è? Loro Va bene, va bene Era troppo stretto Forse potevo provare un passaggio Passaggio alto Passaggio alto Forse sarebbe Sarebbe andata meglio Dai così Dai così Palla a Ronaldo Palla a Ronaldo Che ne dribla 4 5 6 7 8 9 10 A chi sta palla? Che brutta palla Che brutta palla Lo sapevano Troppo nello stretto Troppo nello stretto Signori Troppo nello stretto E questa cosa non andava bene Ivanov Santo Ivanov Che la pare lui E la rimette subito per Matt Matt che vede Jorga Jorga la apre per Babangita Babangita la apre per Miranda Miranda la riapre Per Babangita Che parte sulla fascia Attenzione Il Bamba Il Bamba Da solo Cercato Ronaldo Castolo Signori Inter 1 Leeds 0 Incredibile Incredibile Arriva Ronaldo E chi segna Castolo Signori Ha segnato Castolo Va bene così Va bene così Sparmacchiato Il portiere La guardate Ma che cazzo Ma chi è quello Cioè si aspettavano tutto Da Ronaldo E invece ha segnato Castolo Signori Bella Nostro castellino Tornato dall'infortunio Dai È nostra Va bene Va bene Tornato dal Dallo stop Per infortunio Eh Sono chiuso Sono chiusissimo Però abbiamo creato Lo spazio per Jorga 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 No Mannaggia A chi non te lo dice pure Guarda che Guarda che Botta di fortuna Matt Matt Le valista palla Matt Va bene Dai 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 Ivanov Grande Ivanov Tu provaci Tu provaci Lancia Ronaldo Che però Non ci arriva Va bene Calma Però siamo riusciti A riconquistare il pallone Con Bavan G Attenzione subito Signori Ripartiamo Ripartiamo Velocissimi Cioè se era Se lo faceva il gioco Una cosa di questo genere Non sarebbe mai stata Rimessa laterale Mai nella vita Giustamente L'ho fatta io L'ho fatta io E mi ha dovuto Levarmi la possibilità Guarda 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 Vivanov Vivanov Cioè Avete visto Dov'era il pallone Sì Avete visto Dov'era il pallone A me mi ha fischiato La rimessa laterale Subito Lì No Ronaldo Ronaldo Ronny 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 Fatta il contro cross Matt c'è Matt c'è Attenzione Attenzione Matt Oh Bapangito Mio Ti si è fatto Anticipare In un punto Sbagliatissimo È la nostra Dai Bravo 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 Tu butala sotto Non mi fido Dei passaggiettini Quelli stupidi Ronaldo Ronaldo cerca il Bamba Bamba Che si gira Bamba che si gira E si crea lo spazio Cerca Il tiro Il Bamba Ma non gli riesce Non gli riesce Buco centrale Riusciamo a regolare sto pallone No, 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 no Stiamo calmi, stiamo calmi, grazie Stiamo calmi, stiamo calmi Pallone lento per il Bamba, ma va bene Che se la porta fuori, mamma mia Mi accederà troppo, Babagita, signore Mi accederà troppo Occhio, Valery è tuo Bravissimo, Valery Calma, calma, Matt No, 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 no No, 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 no Gli abbiamo lasciato lo spazio Ivanov Va bene, va bene, va bene Guardalo, guardalo, guardalo Il Bamba Cerca qualcuno Ok, Ronaldo, Ronaldo si è creato lo spazio Ronaldo, 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 Ronaldo No, no, non ci credo Non ci credo, signore Ronaldo è stato fermato sul più bello Pallone per Ronaldo, pallone per Ronaldo Che manda al bar l'avversario Annaggia Poi però torna quello del bar E si riprende il pallone Va, porca miseria Dai Bamba, dai Bamba Grande, Bamba Cerca Ronny Cerca Ronny No Fallaccio su Ronaldo, signori Che non si alza No, 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 signori Si è rotto Ronaldo Si è rotto Ronaldo Si è rotto Ronaldo, signori Si è rotto Cioè neanche il tempo di arrivare Si è rotto Ronaldo, signori Facciamore uscire per Bolac Si è rotto Ronaldo, signori Si è rotto Ronaldo Mi ha preso il tasto sbagliato, non ci posso credere, si è rotto Ronaldo, si è rotto Ronaldo, si è rotto Ronaldo, si è rotto Ronaldo, si è catastrofe, 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 catastrofe più totale, catastrofe totale, proprio, catastrofe totale Catastrofe totale, catastrofe totale, totale, proprio, totale, avevamo dei dubbi, catastrofe totale, perfetto, si è rotto Ronaldo, abbiamo fatto tanto per mettere insieme i crediti per comprarlo, ha giocato 40 minuti, ha giocato 40 minuti, ha giocato 40 minuti e si è rotto Ronaldo, ma noi abbiamo sempre Babangita, noi abbiamo sempre Babangita Porca miseria Il bamba, il bamba, il bamba, no dai cazzarò la bamba però, due occasioni, ho avuto due occasioni da buttarla dentro E adesso è un problema signori, adesso è un problema, manteniamo questo schema e rischiamo? Manteniamo questo schema e rischiamo? Perché chiuderci troppo non servirebbe a niente signori, chiuderci troppo non servirebbe a niente Io ho messo, messo Bolatta ma ho sbagliato palesemente perché, intanto la Fiorentina sta perdendo signori, questo è un risultato ottimo che a noi ci interessa tantissimo La Fiorentina a primo tempo stava perdendo E si riusciva 9, va bene, va bene così, va bene così, giustamente loro ora partono carichi a pallettoni perché devono comunque recuperare il risultato Ora partono carichi a pallettoni perché hanno il risultato da recuperare Ma noi partiamo più, no, l'avevo driblato, l'avevo levato dalle scatole, porca miseria Ok, ok E adesso ci abbiamo le praterie col bamba, ci abbiamo le praterie col bamba, signori mettiamole in cassaforte, signori mettiamole in cassaforte, vi prego Vi prego mettiamole in cassaforte, no Miranda, per Babangita che riesce a girarsi, bamba, 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 no Stiamo sbagliando troppo e questa cosa mi dà fastidio, questa cosa mi dà fastidio, signori, questo sbagliare troppo mi dà fastidio Mett, ancora, Babangita, 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 decidi di andare sulla fascia, Babangì Mett, è sempre tu l'uomo che esce da davanti alla difesa, ok, 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 ok Bamba, cazzarola, perché sta davanti il difensore Grandissimo, Babangita con 1-2, no, gli avevi fatto il pezzo, bamba, gli avevi fatto il pezzo Però recuperiamo il pallone, sempre con Babangita Per via centrale, Miranda, Miranda, Bolatta, Bolatta, la pepera e Spimas, grandissimo il cambio di gioco e Spimas La butta al centro Castolo non ci arriva di pochissimo, signori, ha fatto un'azione avvolgente, no, bella di più Porca miseria, di più, cazzarola che azione avvolgente che avevamo fatto No, 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 no Qualcuno mi spiega perché Dai, levagli sto pallone, porca miseria Bravo, anticipo di testa è riuscito Stacco di testa Facci, 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 Miranda, no, 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 va bene, va bene Babangita, Babangita, grandissimo l'errore questo del Litz Che con un passaggio serve Babangita Che parte lui, Babangita, 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 Babangita Babangita La stavo per tirare, la stavo per tirare, cazzo, la stavo per tirare Babangita, manda al bar il giocatore Che vede Forlanden? Dovevi girare Dovevi fare un passettino avanti Forlanden mio, dovevi fare un passettino avanti Dovevi fare un passettino avanti E non l'hai fatto E non l'hai fatto Mannaggia Dai, dai, bamba Dai, che era fuori sta cazzarola Ah, certo, la prendo io e me la metto fuori Era già fuori Era già fuori prima Però no, 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 no Grandissimo, Matt Grandissimo, grandissimo, Spimas Va bene, calma, 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 relax, signori Stromer, Stromer, il bamba Il bamba, il bamba, il bamba, il bamba, il bamba, il bamba Grandissimo, il bamba ne fa fuori uno Dice a crescere lo spazio Se ne va Babangita Se ne va Babangita, signori Se ne va Babangita Rientra Babangita Babangita Fuori, 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 no, 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 no Forlander, Babangita riesce a ripartire Babangita, Babangita, Babangita Babangita, Babangita, Babangita No, 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 Babangita mio Perché hai chiuso l'angolo Perché hai chiuso l'angolo, Babangita mio Grandissimo Valery Grandissimo Valery No, Valery mio Tra l'altro Ha anche lasciato scoperta la zona al centro del campo Fuori gioco, meno male, meno male Meno male, meno male Ah, meno male, meno male Tu buttala sotto perché sti passaggi lì Tu non li riesci a fare Tu non li riesci a fare Grandissimo l'aggancio di Matt Che cerca subito il Bamba Mi spiega come ha fatto il Bamba A farsi anticipare Giallo per Matt Va bene, va bene Al quarantesimo Va bene, va bene, va bene, va bene Va bene, l'aprono loro sulla fa Ivano, Ivano Madonna mia Ho visto un autogol Signori, ho visto un autogol L'ho visto proprio preciso Preciso ho visto l'autogol Dai, 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 dai Che è nostro Al quarantaquattresimo Signori, quarantaquattresimo Il tempo passa Il tempo passa Non dovevi darla a babangita Mannaggia a te Non dovevi darla a babangita No, 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 no Escivano Poi mi volete fare morire Poi mi volete fare morire La verità è Questa è finita Battiamo il lizzo 1-0 Signori Mamma mia Che partita sofferta Mamma mia Che partita sofferta Signori 12 tiri a 5 Saliamo a 14 punticini Rinizia la risalita In cerca di punti Per comprare Un certo Claudio Lopez Siamo a pari punti Con la Fiorentina Che è seconda Buono E siamo a un punto Dal Dortmund Che è prima Signori Non siamo messi male Non siamo decisamente Messi male Anche perché la stagione Ancora è lunga Detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio per i like Per i commenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre Qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao